Per me l'avvento è festa, per me l'avvento è attesa, per me l'avvento è felicità, per me l'avvento è gioia, per me l'avvento è accoglienza, per me l'avvento è preghiera, per me l'avvento è stare in famiglia, per me l'avvento è aiutare il prossimo. Sto avvenendo questo avvento con il gruppo giovani della parrocchia di Agno, con il quale ci stiamo preparando a raccogliere Gesù nel cuore e nella nostra vita. Buon avvento e buon amare! E condividete!